Salve a tutti ragazzi, sono TennoCookie e sono qui per annunciarvi che dopo tanto tempo di attesa ho deciso di portare un nuovo contest giveaway, dove sarà possibile vincere Platini. Il modo per partecipare sarà facilissimo, basterà scrivere hashtag partecipo e il proprio ID personale nei commenti, come vedete nell'esempio in alto. Ovviamente questo contest sarà solamente per i giocatori da console, Playstation. Il contest durerà una settimana dalla pubblicazione del video. Detto questo, il video termina qui, anche se è stato molto corto. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!